E' in calendario per il prossimo 22 di giugno l'avvio ad Arezzo del processo per bancarotta fraudolenta nei confronti dei 21 indagati ex amministratori di Banca Etruria accusati di aver addistratto dalle casse sociali oltre 100 milioni in prestiti mai rimborsati. A ricordare che dunque sono rimasti pochi giorni per costituirsi parte civile è la Conf consumatori. Gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati hanno titolo, si legge in un comunicato, non essendo creditori sociali, di chiedere a loro volta il risarcimento dei danni subiti. L'associazione può essere contattata dunque da coloro che vorranno fare questo passo, ma intanto sono state pubblicate in gazzetta ufficiale regolamenti per il funzionamento della procedura arbitrale per l'accesso al fondo di solidarietà. Azionisti ed obbligazionisti rimasti fuori dai primi rimborsi possono quindi acquisire modalità e termini per la presentazione delle relative istanze. Entrambi i provvedimenti entrano in vigore a partire dal prossimo 28 di giugno.